Il teatro minimo è un posto di 28 posti in 28 metri quadri perché ho voluto dimostrare che il teatro si può fare ovunque. È una stanza con 30 sedie, con il bagno, con il bar, con il camerino, con la regia, con la sala proiezione, con un impianto audio e un impianto luci. È un teatro ma in miniatura ed è aperto alla città, molto semplicemente. La programmazione varia di settimana in settimana perché il teatro minimo il giovedì ha musica dal vivo e la domenica ha musica dal vivo, mentre il venerdì e il sabato è teatro. Il venerdì è teatro un po' più serio e il sabato è teatro più comico. L'ingresso è consentito solo ai soci, per cui se volete diventare soci di Teatro Minimo dovete rivolgervi alla pagina Teatro Minimo Taranto di Facebook oppure sul sito teatrominimotaranto.it e poi ci metteremo in connessione e potete diventare soci di Teatro Minimo, 28 posti in 28 metri quadri. Grazie a tutti!